Genitori, i miei nonni, mi hanno detto di ricordarli portando un mazzo di fiori una volta all'anno. Ogni anno, il giorno della commemorazione, Armando arriva qui alla caserma Piero Bon di Chiesa Nuova con un mazzo di fiori bianchi. Aveva appena un anno quando lo zio Antonio Franzolin di Bagnoli venne fucilato insieme ad altri sei partigiani durante una rappresaglia nazifascista. Con lui vennero uccisi il 17 agosto del 1944, primo barbiero Pasquale Muollo, Cataldo Prestici, Ferruccio Spigolon, Saturno Baldini e l'allievo ufficiale Luigi Piero Bon che oggi dà il nome alla caserma. Altri tre partigiani, Flavio Busonera, Clemente Lampioni ed Ettore Calderoni furono impiccati in strada in via Santa Lucia. Padova non dimentica questa pagina buia della storia e commemora come ogni anno le vittime dell'odio scatenato dall'omicidio di via Santa Lucia del tenente colonnello dell'esercito e della Repubblica Social di Salò Bartolomeo Fronteddu. Un delitto passionale che però venne ritenuto il pretesto per il massacro dei dieci partigiani. Io sono andato nelle scuole a spiegare questa situazione, questa storia e i ragazzi mi hanno fatto mille domande come è andata perché non lo sanno, la scuola non viene insegnata, resistenza, quello che è accaduto è molto importante nel 43-45. Per Armando ricordare come riportare in vita il coraggio dello zio che a soli vent'anni scelse di unirsi ai partigiani per la resistenza, alla cerimonia religiosa è seguita la deposizione della corona di alloro davanti al cipo che ricorda il luogo dove 75 anni fa avvenne la strage, con il monito del vicepresidente dell'Ampi di Padova a non dimenticare. Fare apologia o avere anche solo benevolenza nei confronti di quel regime è proprio sbagliato. Possiamo spiegarlo solo con due fatti, la grande lontananza nel tempo e a questo serve come antidoto lo studio della storia e la crisi nella quale vive il nostro paese.